Sono sempre timoroso quando parlo con lui perché ho sempre paura di sbagliare. Con il professor Parisole abbiamo fatto assieme un convegno su Foscarini. Mi hanno costretto, per fortuna, lui e Raffaele Cirino, a leggere questo libro brostrano, ma bellissimo, in cui abbiamo scoperto in epoca galileana una scienza nuova, la scienza dei sistemi complessi, che voi conoscete, che poi è venuta fuori alla fine del 1800. Mentre Leo aveva Newton e Leibniz, che facevano i calcoli, il povero Foscarini di Montalto si è trovato senza definizione di probabilità di sistemi stocastici, che sono nati 400 anni dopo. E questa è una cosa molto bella, tant'è che questo ci ha dato, come dire, come l'input per creare un centro, speriamo che sia attivi, un centro interdipartimentale di ricerca sulla storia del clima, in qualche modo, è un tentativo di unire questa cosa. Vabbè, la parola del professor. Si sente bene? Allora, io oggi sono molto contento di essere qui con voi e di introdurre un po' questo film, i progetti che lui ha enucleato, poi quelli lì speriamo che si sviluppino e che ci sarà modo di parlarne in futuro, ecco, per la loro fecondità, soprattutto. Oggi sono venuto a parlarvi di questo film, un film che ho visto per l'occasione. Il film, vabbè, di suo è un po' particolare, nel senso che è un film che, parlandone già, lo trasformo più come in un episodio del Tenente Colombo, nel senso che la struttura filmica, per un certo tempo, gioca sulla non comprensione della realtà e dell'intreccio. Poi si svela la realtà e dell'intreccio e il film, che è un film che investe una domanda bioetica, una domanda sull'identità dell'uomo, sulla dimensione antropologica, dal punto di vista, così, dell'impatto visivo, è un film d'azione. Potrebbe svolgersi anche come storia di una coppia di rapinatori di banche nel Far West, cambierebbero il tipo di veicoli che usano, ma sostanzialmente è un film d'azione che finisce con toni di tipo escatologico apocalittico e ha un forte impatto visivo. Quindi, già dicendovi che è un film sulla cronazione, appunto, già faccio l'effetto Tenente Colombo, si sa già chi è l'assassino e il film perde in parte questa sua dimensione che commercialmente è funzionale al modo in cui si presenta al pubblico. Ecco, la questione che il film pone, insomma, per ragionare un po' all'H.I.E. e du Cinema, ecco questa rivista, e l'idea è questa, noi siamo fatti di un insieme di organi, e il nostro organismo risulta dalla loro combinazione, non c'è bisogno di una scienza sofisticata. Quando io andavo a scuola, all'elementari, si raccontava l'apologo di Menegno Agrippa, una situazione politica, scontri fra patrizi e plebei, Menegno Agrippa, per conciliare le diverse componenti della società romana, ricorre ad un'immagine del corpo in cui gli organi sono tutti diversi, alcuni possono essere anche più schifosi, perché magari puzzano, che so, la bile, il fegato è un po' più ripugnante di altri organi, e tuttavia tutti assolvono la loro funzione precisa, insieme e non isolati. Il film mette in scena questa idea in un senso però scioccante, il modo migliore per fornire un intervento su un individuo malato è quello di riprodurre lo stesso organismo nella sua complessità e alla bisogna, solamente alla bisogna in quel momento, prelevare dall'organismo che parallelo l'organo e che serve e guarire così al meglio la persona. è un clone, è un clone, è un individuo perfettamente identico, solo che come in tante scelte di politica sociale meno fantastiche ma molto concrete, questa cosa non si può raccontare. Non si può raccontare perché, sebbene sia molto utile dalla parte dell'individuo clonato, il quale non si fa nessuna domanda, perché nel film non è chiaro se capisce o non capisce qual è la reale posta in gioco, ma comunque sa di poter usufruire di un vantaggio, però i due mondi sono un po' come separati, il mondo dei cloni e il mondo degli esseri riprodotti, il clone stesso certamente assomiglia ad un animale d'allevamento. Guardando il film mi veniva in mente il tacchino induttivista di Bertrand Russell. L'animale è da cortile che si trova in un mondo favorevole, che si può anche compiacere del mondo in cui si trova, fino a che un giorno non gli viene tirato il collo, perché il suo scopo era quello di finire sulla mensa a Natale. In questo caso è ancora più complessa, è ancora più scioccante la cosa, perché non c'è una funzione prestabilita a fornire carne o fornire latte o fornire uova per essere meno traumatico, c'è veramente alla bisogna la soppressione dell'individuo. Poi vedete nel film che il clone viene anche manipolato in maniera truculenta, permettetemi, perché sia più efficace l'uso degli organi, c'è un'anestesia che pare anche particolarmente leggera, in maniera che sia più efficace, che non vengano contaminati. C'è un certo cinismo che percorre, che mano a mano si svela nel film. Che cos'è che mette in scena? Mette in scena sicuramente un fantasma. Il fantasma è lo stesso, al di là di ogni conoscenza scientifica, dell'apologo di Menegno Agrippa. E' anche vero che un organismo è fatto di tante parti, però ci sono delle parti che sono più direttive di altre. E queste parti più direttive di altre possono arrogarsi il diritto di decidere della sistemazione delle parti stesse. Menegno Agrippa convince i plebei che anche il fegato puzzolente ha la stessa dignità e del cervello, però i patrizi sono convinti che il cervello è ancora superiore. Infatti la storia di Roma poi non è che diventa come dire agrippina in questo senso. D'altro canto, però, l'istanza etica e l'istanza emorale ci suggerisce che effettivamente l'uguaglianza è un valore strutturale, che la discriminazione, se noi prendiamo l'apologo di Menegno Agrippa proprio nella sua complessità totale, la rottura dell'uguaglianza è una simmetria intollerabile perché nulla la giustifica in una direzione piuttosto che non in un'altra. In questo senso il clone è un fantasma perché il clone non è un altro individuo che viene manipolato. Per un attimo pensate, c'è un mio clone o c'è un individuo? Qualunque. Diciamo medicalmente adatto ad un espianto. A me serve un nuovo fegato. Tanto è fantascienza, possiamo dire anche un nuovo cervello. Qualunque è nuova cosa. Che differenza c'è fra il clone e l'individuo e qualunque? Che nel caso dell'individuo e qualunque noi sopprimiamo una vita. Un'altra vita. Quindi siamo nell'omicidio nel suo senso più intuitivo. Nel caso del clone, il fatto stesso che io lo chiamo clone è stato determinato ad uno scopo. Non è una nascita spontanea. Se noi immaginassimo che lo stesso individuo che chiamo clone fosse venuto al mondo spontaneamente, senza nessun intervento umano, cosa che invece è la questione del film, è una fabbrica genetica di cloni. Noi non lo chiameremmo clone. Parleremo di un individuo straordinariamente simile a me. E lo metteremo piuttosto accanto all'individuo qualunque da cui con la violenza è spianto il fegato. Invece il clone, in questo senso, è un fantasma. È l'idea di poter disporre di una parte del mio corpo di riserva senza sopprimere una vita. In questo senso, il film mette in scena una non morte di questi cloni quando vengono impiegati. Quando scatta questo richiamo, si viene scelti per uscire da questo cosmo chiuso della fabbrica dove gli individui, come delle buone galline, non si devono ammalare. Devono essere in perfetta salute e vincono un viaggio sull'isola, da cui il titolo è del film. L'isola, in realtà, è l'anticamera e della soppressione. Questo clone, e questa, come dire, la forza del film è anche, come dire, lo scandalo raddoppiato, è un fantasma nel senso che è l'illusione di poter disporre di un materiale esattamente come espiantarlo da un altro individuo, ma di un individuo che non muore perché, essendo un clone, è qualcosa che non è un altro individuo. Cioè, il film emette in scena qualcosa di questo tipo. tutti noi sappiamo che è problematico, preso un singolo individuo, determinare fino a quando l'individuo resta lui stesso. Voi sapete, non solo nel cinema, ma anche nella letteratura, vendere gli organi è stata una delle prime cose che sono state considerate negativamente e proibite e l'idea che si tratti di un'ammenomazione. Non che l'individuo che vende un organo non è più lo stesso individuo, ma che ha subito un'alterazione inaccettabile, un'alterazione che non si può che considerare in senso negativo. Pensateci alla simmetria. La donazione è lecita, la vendita no. La donazione è lecita, ma perché c'è un pregiudizio di menomazione nella vendita, perché il denaro compensa qualcosa, ma anche la donazione, se è lesiva della propria integrità, non è lecita. Solamente che nella donazione, per esempio post mortem, non c'è più menomazione, perché dato che l'organo fa parte della carogna, la carogna non viene lesa dalla sportazione di una sua parte. Possono essere lesi altre cose simboliche, per esempio l'integrità del cadavere. Noi magari non siamo più abituati alle nostre culture occidentali, ma molte forme di pietates in tante culture, anche nella nostra più antica, tendevano a mantenere simbolicamente l'integrità del cadavere. Non perché servisse a qualcosa, ma perché era la continuità dell'individuo. Noi nella nostra cultura occidentale questo elemento non ce l'abbiamo più. Però ecco, notate questo, la donazione è più accettabile, ma in ogni caso, se ricorrono le stesse condizioni della presunzione che c'è nella vendita di compenso per la menomazione, neanche la donazione è lecita. D'accordo? Perché l'individuo subisce un'alterazione. Perché nel caso del clone questo, come dire, invece non viene percepito? Perché il clone è come un puro prodotto tecnico con un paradosso, che questo puro prodotto tecnico però deve essere identico all'essere umano che è stato riprodotto. Ma se è identico, o è un puro prodotto tecnico anche l'individuo di partenza, il quale occasionalmente non è stato creato dall'uomo, ma alla fine ha lo stesso valore del clone, e in questo senso il piano del fantasma si può ribaltare. E' quello che suggerisce anche il finale, in cui i cloni si liberano, ma potrebbero diventare loro gli esseri umani e di riferimento. Oppure non è identico, ma allora non è più un clone. E se non è un clone, è un altro individuo e ritorniamo alla categoria dell'omicidio. In questo senso che io dico che il film è fantasmatico, perché concretizza qualcosa che il principio di realtà dovrebbe invece tenere fuori dalla mente umana. In senso tecnico, in senso psicoanalitico, è perverso, perché ciò che dovrebbe essere confinato nei fantasmi, cioè nei disegni che non passano mai in atto, invece il film lo mette in scena come concretamente è realizzato. Quindi è questa la domanda principale che il film pone. Siamo veramente consapevoli di come quest'idea di clonazione sia distruttiva dell'identità e dell'essere umano? E questo lo pone. E quest'ultima considerazione che vi ho fatto. se il clone è identico non c'è ragione che possa essere utilizzato, che sia lui come dire l'animale domestico, il materiale genetico da manipolare, perché può essere anche il viceversa. Se è diverso, comunque sia come dire la genesi della sua venuta al mondo, se anche potesse dire che l'uomo, un altro uomo ne è l'autore, però sarebbe comunque un essere vivente e come tale non utilizzabile. Guardate che questo film ovviamente ha un sostrato di fantascienza e genetica, ma in realtà dal punto di vista simbolico della mente umana questo non è importante. Voglio dire quando i primi esploratori del continente africano oppure dell'America e del sud utilizzavano termini tratti del mondo animale per indicare gli esseri umani indigeni, in qualche modo mettevano in atto lo stesso fantasma e della clonazione. Quando si diceva un tempo, specialmente questo qui è ancora la prima metà del XX secolo che i negli sono come le scimmie, questa è una variante in assenza di una struttura di conoscenza scientifica e genetica del fantasma e della clonazione. Non c'è differenza. Sono esseri umani che apparentemente ricordano ma che in realtà non sono umani e quindi lasciamo perdere l'uso per i trapianti chirurgici che insomma per quanto l'uomo intervenga sul cervello dall'antichità abbiamo i resti archeologici di questi interventi però i trapianti sono una cosa estremamente recente. Però se ha solo la pervenza dell'essere umano ma ne ha le funzionalità lo si può usare per esempio come forza lavoro e senza remore. Nell'America centrale e nel Sud America le dispute sulla natura dei nativi indigeni certo che si davano in forme teologiche colte ma in realtà i partigiani più forti dell'inferiorità e dei nativi erano i manovratori e le manodopera. La corona aveva un interesse talmente forte che avrebbe visto scime e asini dappertutto se avesse potuto trattare gli spagnoli come scimi e asine non avrebbe avuto ragione di fare discriminazione sistematica dei nativi. Sapete la razionalizzazione è importante in tutte queste cose e del resto il dibattito della filosofia morale della bioetica è importantissimo però io penso che questo film che dal punto di vista dei dialoghi per certi versi io trovo che ci sia anche una certa enfasi e retorica più spinta che so io nei film di serie Z degli anni 60 degli anni 60 soprattutto penso a quelli con i film di Roger Corman o quelli con Vincent Price c'è sempre questo come dire questo elemento che la proprietà della vita è solo di Dio frasi un po' isolate perché poi la struttura del film è essenzialmente azione psicologica e fantastica non so se le avete presenti un po' diversa dall'azione roboante di questo film ma è interessante però questo film senza fare uso esplicito di una razionalizzazione tematica coinvolta però dal punto di vista fantasmatico è estremamente interessante perché mette in scena il fantasma in questo senso ci fa interrogare su come la condanna morale per esempio e di queste pratiche sembra doverosa almeno a me sembra è doverosa però al tempo stesso ci è coinvolto qualcosa di più complicato qualcosa di importante e cioè il rifiuto del passaggio all'atto della fantasia sproporzionata e dilatata cioè quello che il film cerca di fare anche questo per coinvolgere lo spettatore è come di agire su una fantasia che inconsciamente può albergare in ciascuno di noi qualunque sia la nostra posizione morale esplicita e in questo senso facendo leva e sull'inconscio coinvolge lo spettatore sia in un senso che che nell'altro ecco io penso che dopo di che il film può essere giudicato variamente io penso che il fattore dipende molto da come si apprezzano i film di azione e moderni azione come dire con macchine slanci corse eccetera eccetera che non è come un film di kung fu ecco che è un tipo di azione è diversa è un film è come un film poliziesco spionistico tutti che collassano l'uno sull'altro e con scene apocalittiche però il film merita secondo me la nostra riflessione proprio e per questa sua forza di di scavare nell'inconscio non attraverso una riflessione propria ma un po' come in fondo poi sapete era anche la tragedia greca noi oggi ne facciamo un oggetto di erudizione non si legge più in greco ci sono commenti spessi ma nella sua essenzialità la tragedia greca parla all'inconscio è per questo che attraversa i secoli è perché oggi un giapponese la può apprezzare non perché la cultura greca sia superiore a quella giapponese o di cose di questo genere ma perché parlando all'inconscio è capace di di trasmettere messaggi anche diversi anche in geoculture diverse e a maggior ragione a persone con sensibilità diverse nella stessa geocultura ecco io era questo che vi volevo dire spero di essere stato abbastanza chiaro e di avervi fornito una pista vi ho un po' rovinato l'effetto filmico perché raccontandovi queste cose appunto sapete già quello che invece il film cerca di presentare però come dire in questo modo si è un po' più avvertiti anche se si sa che qualcuno cercherà di farci paura se le corde sono profonde alla fine proviamo paura nello stesso in questo senso tutta la seconda parte molto di azione è come una veste commerciale il significato profondo del film resiste anche senza io penso che anche così i stradati sono la chiave di lettura il film mantiene la sua la sua forza i suoi difetti e tali e quali in questo modo io vi ringrazio e possiamo vederlo grazie grazie a tutti grazie a tutti un confronto tra questo che ovviamente è un film piuttosto recente e invece il Frankenstein che in qualche modo non aveva lo stesso scopo cioè creare un essere per poi utilizzarlo ma comunque creare una creatura a partire da certi organi non era la clonazione certo non era simile a nessuno ma comunque era un individuo che tra l'altro pose diversi problemi di inserimento nella società il vero problema di allora era se un individuo poteva inserirsi nella società questi invece ovviamente non hanno lo stesso problema perché sono mantenuti esterni alla società se ho ben capito separati separati la fabbrica è a compartimenti stagli questa se ti suggerisce qualche cosa questo fatto perché hanno in comune la possibilità questa possibilità secondo me è ancora da verificare che sia possibile creare un clone a cui poi bisogna dare un'identità chi è il vero problema qui secondo me è veramente che cos'è l'individuo come si forma l'individuo in entrambi i casi sono stati pensati in epoche differenti ma il problema era secondo me quello di che cosa sia la nostra identità di singolarità questo se tu hai da raggiungere rispetto al filone diciamo così del cinema fantastico classico da Frankenstein in poi quello che manca in questo film è il tema della produzione della vita nel senso queste vite sono prodotte ma non c'è apparentemente nessuna interrogazione su come siano prodotte e su quali problemi questo comporti è un dato scontato oppure se voglio proseguire nella lettura di antropologia psicoanalitica in gergo si chiama è una reiezione ossia si sopprime un significato fondamentale che dovrebbe essere necessariamente discusso ma che viene radicalmente messo e da parte nei film invece da Frankenstein in poi e ci sono tantissimi film ci sono quelli più ambiziosi ci sono quelli proprio commerciali commerciali quelli che io chiamavo prima la serie Z che è solamente per fare cassa al botteghino c'è sempre questa frase che mette in guardia contro la violazione dei confini solo Dio può dare la vita che cosa abbiamo fatto abbiamo varcato i confini che non ha poi un riscontro in qualcosa è come un epigrafe a conclusione tutta la dinamica che c'è stata ci porta a reinterrogarci su chi sia il padrone il concessore della vita è la Ubris greca abbiamo voluto sapete tutta la mitologia greca è costellata di Ubris non di questo tipo evidentemente ma c'è sempre qualche essere umano nei racconti mitologici che vuole avvicinarsi troppo alla prerogativa di qualche divinità e questo comporta la reazione della divinità e la sua come dire dannazione in vita che se io Medusa voleva essere bella come Afrodite la dea che cosa fa le trasforma i capelli in serpenti e il suo sguardo ammaliante renderà di pietra tutti coloro che a loro volta la guarderanno è la Ubris il tema è della Ubris nei film da Frankenstein in poi che poi recuperano il senso che Mary Shelley nel suo romanzo di inizio ottocento aveva efforgiato c'è questa violazione dei confini solo Dio può dare la vita e cercare di dare la vita è già iniziare un percorso che al di là del risultato non potrà che avere conseguenze negative il tema è la produzione della vita qui invece il tema è la gestione di materiale corporeo è la gestione di materiale genetico il tema di dare la vita a meno può darsi che io l'abbia guardato con occhio e disattento ma mi pare che sia veramente rimosso anzi più che rimosso è proprio come se non ci fosse è la questione e in questo senso il problema dell'identità qui viene dato e per scontato in senso biofisiologico nel senso che sono cloni anche se vivono vite completamente diverse dal soggetto di cui sono cloni riguardate anche tutte le questioni anche gli esperimenti genetici sotto il nazionale e socialismo questi esperimenti dei gemelli separati per vedere come l'educazione influisca sulla formazione e della personalità qui la personalità del clone non ha nessuna rilevanza il clone può essere completamente diverso nei suoi tratti nei suoi stati mentali e però anche questo elemento che prima vi dicevo di questa di questo espianto cruento cioè la vittima che poi sono vittime chiamarle vittime è già pietas pre cristiano non è anche quella questione legata ad una religione del libro deve essere asportato il più caldo possibile il più caldo possibile quindi anche questo tema non è discusso però è affermato e con violenza perché appunto non viene discusso l'identità biofisiologica è tutto quello che c'è da dire questo però rimanda ad una dimensione nascosta dietro c'è l'idea che la genetica sia una scienza esoterica esattamente come ci può essere una scienza mistica che Dio ha e del mondo la genetica è questa scienza esoterica che poi è una contraddizione in termini lo so perché se la scienza è controllo pubblico esoterica non può essere non può essere iniziatica però si mette in scena questo è questo elemento che è capace di riprodurre questa identità biofisiologica e nient'altro i cloni sono sono in salute del resto anche come dire si suggerisce anche che l'individuo che si ammala può vivere la vita che vuole tanto poi gli organi deteriorati saranno sostituiti efficacemente con organi nuovi è materiale di ricambio e vivente in questo senso è chiaro che tutto il problema dell'identità legato agli stati mentali al rapporto fra gli stati mentali di cui è portatore un corpo questo problema è rimosso perché i cloni praticamente è come se non avessero stati mentali per chi dirige la fabbrica che li manipola ampiamente tutto il personale li manipola e neanche per chi poi ne usufruirà dall'esterno sono esseri umani cui stati mentali sono irrilevanti notate che in questo dicevo prima facevo gli esempi come dire dei quasi uomini che gli esploratori scoprono e degradare gli stati mentali dell'essere umano che è di fronte a noi come dire ci attutisce lo shock della morte perché non è che ci convinciamo immediatamente che non è un essere umano però dire che i suoi stati mentali sono degradati e allora può lavorare di più piano piano fino alla soppressione fisica la giustificazione e nei casi estremi qui è l'idea che la soppressione fisica è programmata sin dal momento stesso in cui si procede a dare la vita in Frankenstein il medico Frankenstein vuole dare una vita vera specialmente non in tutte le versioni ma in alcune più recenti e nel romanzo c'è tutto come dire è questa tribolazione del mostro il fatto che il mostro vada a morire nelle lande artiche nel romanzo è molto chiaro perché non è capace come dicevi tu di integrare la società perché quella produzione biofisiologica non è sufficiente a fare un essere umano l'identità è corpo e mente in una unità e molte volte i filosofi arrivano a forme di dualismo o di riduzionismo però grossomodo il buonsenso è l'unità mente corpo ecco magari è difficile spiegarlo è difficile sostenerlo in sede teoretica per esempio Aristotele che comunque dà delle botte di buonsenso e notevoli a volte secondo me esagerata talmente esagerata perché il filosofo a volte dovrebbe anche dire delle cose rischiose però in Aristotele l'unità mente corpo viene difesa sistematicamente per tutte le pagine del De Anima laddove qui invece siamo di fronte a un tentativo poi un tentativo il realizzatore del film non tenta nulla mette in scena ecco questo qui penso che sia molto importante è una narrazione che stimola l'attenzione e l'inconscio del lettore qui comunque i cloni sono trattati in maniera fortemente riduzionistica non c'è nessuna nessuna remora nei vari personaggi che ruotano non sembrano particolarmente cattivi sono aguzzini indifferenti forse è giusto il direttore e di tutto assume i tratti della perversione gli altri sembrano aguzzini indifferenti un po' come se uno lavora in un pollaio non è che si commuove per le galline ecco è un po' anche i nazisti basta degradare la mente sostenere che non sono esseri umani e si possono eliminare questo questo è l'elemento e in questo il paragone con i nazisti è tanto più interessante perché la soluzione è finale non è mai stata oggetto di pubblicità cioè c'è una dottrina nazionalsocialista che era diffusa nel corpo sociale ma proprio la soluzione finale in quanto tale restava un piano esoterico era sostenuta con motivazioni esoteriche ma gli ideologi e del regime ritenevano che fosse inopportuno che la popolazione anche favorevole al regime ne fosse ne fosse consapevole a volte ci si chiede ma come poteva la popolazione tedesca ignorarlo per molti versi aveva già chiuso gli occhi per sostenere il regime su altri punti però quando si parla di cose che toccano così l'inconscio umano per cui la difesa della vita non è solamente una norma morale esterna è anche qualcosa che coinvolge la nostra mente nei suoi recessi e più profondi spesso i regimi e politici preferiscono come dire prima procedere all'azione ottenere l'effetto e poi preoccuparsi di giustificarlo ma neanche un regime totalitario come quello nazionale e socialista del terzo Reich si è ritenuto in grado di condurre la soluzione finale facendone partecipe in maniera esplicita la popolazione questa ormai la documentazione storica è abbastanza chiara ma pensate anche ai gulag non è che venissero raccontati come campi di sterminio per quanto fossero pieni di nemici del proletariato la narrazione adottata è un'altra è la narrazione dell'abbassamento delle proprietà dei soggetti coinvolti e della loro utilità per alti scopi anche come dire nei campi di concentramento nazisti il lavoro nobilita l'uomo sono campi di lavoro non sono campi di sterminio e questa è la retorica con cui si presenta questi cloni e questo è interessante è un segreto è un segreto di chi viene ucciso di chi sfrutta il materiale e c'è un elite c'è questo elemento per questo che ho parlato di una genetica esoterica perché c'è qualche iniziato che invece conosce tutto il meccanismo c'è qualcuno che può conoscere il meccanismo notate che questa è una struttura che si può presentare anche in questioni e meno cruente per esempio così e dopo concludo perché spanto si intropa ma Bernard e Manville un medico cartesiano agli inizi del settecento che teorizza in maniera molto cinica la macchina e del capitalismo scrive questo la favola delle api non so se vi è mai capitato di leggio si trova anche su internet è una storiella carina ma adesso non dico di più perché sennò andiamo a parlare della cosa però lui che cosa dice che quello che io descrivo nella favola delle api è il funzionamento del capitalismo ma attenti ai cittadini alle persone che compongono la società non deve essere raccontata come funziona la macchina bisogna raccontare loro una storia la morale serve perché ci credano poi nessuno si comporterà secondo la morale per cui io sono sostenitore dell'egoismo assoluto però solo pochi potranno sapere come funziona la macchina e quei pochi sono quelli che ne terranno il più grande beneficio questa struttura iniziatico esoterica guardate che qui vediamo in un film fantastico un film di fantascienza guardate che è molto più diffusa di quanto almeno in certi teorici Manville se vi capita leggetelo non vi dico niente su come è fatta la favola delle api però è una lettura carina vi sembrerà provocatorio scandaloso però considerate che lui era proprio convinto che funzionasse così senza nessuna esagerazione ecco questo qui è per dire che non siamo di fronte ad una struttura specifica del problema genetico dell'identità umana è un problema più complessivo se volete delle relazioni umane in qualunque ambito e in qualunque contesto è per questo che vi ho fatto questo esempio di Manville che per altri versi tocca un'altra questione ma che nella profondità il tema del segreto viene evocato in uno stesso identico modo solamente che Manville è talmente maleducato da dirlo apertamente ecco solamente questo no beh no non una cosa sul film cioè volevo dire secondo me una chiave una seconda pista per dire che sicuramente è minore perché il tema è questo qua secondo me il film mette a tema soprattutto una società iniqua ok però dal punto di vista di chi guarda il film si identificano i personaggi che sono appunto i cloni si pone anche un percorso diverso cioè io sono il personaggio che vedo con cui mi identifico quindi io ho una percezione di una realtà che è positiva e improvvisamente mi scontro con una realtà che nella sua verità è di morte e questo viene esorcizzato con l'azione perché poi conduce alla fine questa domanda che pone un'impietudine in me perché se io penso a me penso io sono nato e ho una percezione di positività della vita e nello stesso tempo mi accorgo che c'è un destino di morte che sono nato per essere ucciso per morire non per essere ucciso per morire la differenza è che quelle persone sono nate per essere uccise e io sono questa barriera oscura è davanti a me nel film questa inquietudine una domanda sulla positività della realtà secondo me viene posta anche se in maniera implicita e viene risolta con un appunto con l'azione che è una specie di rito di esorcizzazione della morte che incombe è una secondo me una cosa secondaria però volevo sapere un attimo se questa cosa ti trova d'accordo oppure no è certo che c'è anche questo tema e questo se vogliamo è un fantasma di tipo è diverso è il fantasma dell'immortalità perché in effetti è quella la differenza che qui qualcuno li mette a morte nel mio destino è naturale morirò però io posso sempre dire perché Dio ha fatto così gli esseri umani quindi c'è un esterno oppure perché il caso senza ragione in un contesto enichilistico fa sì che ci sia un'organizzazione così piacevole e poi il dissolvimento è nel nulla tra l'altro e notate che se noi andiamo a leggere i testi teologici con un po' di pazienza io ci sguazzo di più per ragioni da tardo antico e medioevo che Dio e il nulla sono sempre collegati estrettamente quindi il caso è un altro nome è un'altra come Dio gerarchia e di valori associata a Dio perché quando Sant'Anselmo definisce il nulla può solamente definirlo come ciò che c'è quando c'è solo Dio adesso io non la faccio è lunga ma sono intrecciati inevitabilmente e quindi è chiaro che c'è questo e c'è il rito del ricongiungimento vitalistico con la vita attraverso l'azione che non mi risolve la domanda sulla mia origine e sul mio destino non mi interrogo su ciò da cui vengo e l'escatologia la lascio completamente dalla parte però vivo fin tanto che questo meccanismo è vitale e mi sarà dato l'identificazione è forte la storia ed amore è un elemento classico di ogni film anche i film comici anche i film farseschi come dire la storia ed amore serve a stimolare l'inconscio e la identificazione e però i personaggi come dire sono manipolati protagonista maschile protagonista femminile in maniera tale che ci sia non una ripulsione oppure anche un'ambivalenza ma tendenzialmente non si può che parteggiare per i due per i due protagonisti e quindi c'è questo valore catartico e dell'azione che in effetti letta in questo modo assume una valenza che va al di là come dire del suo effetto commerciale soddisfare un pubblico che è abituato a questo tipo di scene in effetti si può dire sono perfettamente d'accordo che un film io ho parlato prima di scene escatologico apocalittiche però l'interrogazione escatologica non c'è cioè si presentano come delle scene che suggeriscono qualcosa che deve accadere qualcosa che che deve essere però su che cosa sia questo questo destino la risposta sembra essere qualche altra azione come dicevo prima forse forse il gruppo di cloni adotterà altri come suoi propri cloni in un'inversione dei ruoli si può immaginare qualunque cosa però sicuramente non è una prospettiva come dire minore perché nella misura in cui coinvolge i recessi della mente umana semplicemente io ne ho tematizzato un'altra però anche questa c'è anche questa c'è perché per molti per molti espettatori la rimozione della dimensione escatologica nelle due direzioni può essere qualcosa di angosciante è chiaro che anche questo è un segno dei tempi perché se voi avete fiducia in una vita ultraterrena ciò che accade in questa vita non può mantenere lo stesso significato che se voi non credete ad una vita ultraterrena è l'argomento della scommessa e di Pasqualla il pari funziona se voi avete veramente fiducia che c'è una vita ultraterrena sebbene lui lo mette in una forma di probabilità però se voi proprio e ci credete zero tutta la percezione del mondo cambia perché la storia a un certo punto è una semiretta che c'è e non mi interrogo come è iniziata se ci siamo un po' di origine però sicuramente è una semiretta perché ha un punto è di fine e una semiretta è radicalmente diversa da una retta anche se sono infiniti punti ambe due c'è qualcosa che fa sì che sono due cose completamente diverse pur essendo magari in corrispondenza più univa va bene grazie mille a Luca grazie mille grazie mille